Come faccio a diventare un professionista? Questa è una domanda che negli ultimi tempi sto ricevendo tantissimo e mi sono accorto, mettendomi proprio a riflettere su come poter dare veramente una risposta intelligente e soprattutto dal mio punto di vista, perché ovviamente non posso darti la ricetta segreta io ti dico come sto facendo io per essere una persona che vive di musica, ok? E quindi riflettendo un pochino sull'argomento mi sono reso conto che sulla base delle domande e interrogando me stesso su come poter spiegare al meglio quello che è la mia esperienza che piano piano mi ha consentito, mi ha aiutato a diventare un professionista, cioè una persona non un figo della madonna, perché professionista non significa questo, ma una persona che semplicemente riesce a sostenersi, a sostentarsi, a vivere facendo la professione di musicista, cioè suonando, facendo i concerti, insegnando, collaborando, registrando, eccetera, eccetera, ok? Quindi riflettendo su questa cosa mi sono reso conto che c'è tanta confusione proprio in generale sull'argomento, soprattutto da parte dei ragazzi più giovani che si interrogano su come da grandi di poter riuscire a vivere facendo il musicista. Allora, ho deciso per rispondere a questo argomento di creare una vera e propria rubrica dove sviscero un pochino vari argomenti, perché mi sono reso conto che iniziando a parlare si aprono tante finestre e se devo cercare di approfondire ognuno di queste finestre praticamente viene fuori un video di 90 miliardi di ore e quindi è complicata la faccenda. Mentre adesso faccio questo primo video e poi domani, dopo domani, insomma, nei prossimi giorni pubblicherò tanti altri video. Successivamente spero di ricevere delle domande su vari argomenti e quindi di approfondire e andare a arricchire di volta in volta questa playlist che creiamo in modo tale che per le persone che stanno seguendo l'argomento ci saranno sempre contenuti nuovi dove condivido la mia esperienza e dove spero che voi condividiate la vostra e quindi ci diamo dei consigli a vicenda, ok? Quindi parto con questo primo video e nei prossimi giorni ne pubblico altri, sempre su questo argomento, per capire come cercare di avvicinarsi al mestiere della musica, quali sono state le mie esperienze, quindi vi racconto qualche aneddoto, insomma, cose che ho visto e che mi hanno portato ad agire in un certo modo e quindi ad arrivare e cercare di migliorare perché, attenzione ragazzi, io non sono assolutamente arrivato da nessuna parte, cioè faccio l'attività di musicista, non sono un batterista famoso e quindi vivo come tantissime altre centinaia di migliaia di persone di musica senza eccessi, senza essere la star assoluta, senza essere l'ultimo scappato di casa, diciamo una cosa, una persona normale, ok? Quindi partiamo da questo presupposto. Ti sei interrogato mai su che cosa significa essere un professionista? Essere un professionista in qualsiasi ambito musicale, tecnico, scientifico, eccetera, eccetera, significa che tu sei semplicemente una persona che ha una competenza tecnica più o meno elevata e che la mette al servizio di altre persone per raggiungere un certo tipo di risultato. Per esempio, un idraulico ha la competenza tecnica di saper aggiustare, che ne so, le tubature dell'acqua, quindi io che non capisco niente di quella cosa, mi si rompe un tubo dell'acqua a casa, chiamo un professionista che è esperto in materia e che quindi mi risolve il problema. Ecco qui un primo punto da chiarire. Nel mondo della musica ho notato che spesso i ragazzi giovani fanno una grandissima confusione e pensano che professionista uguale persona a fine di mondo che sa fare degli esercizi difficilissimi alla batteria e che quindi praticamente è un giocoliere della batteria. No, professionista vuol dire che tu ti puoi sedere dietro la batteria e risolvere il problema che in quel momento ha magari un artista, sempre perché stiamo parlando di ambito lavorativo, ok? Quindi voler lavorare con qualcuno, per qualcuno, ok? Il cantante X, la band X, ha il problema che deve registrare un disco, deve fare una tournée, deve fare un concerto, deve fare un'apparizione televisiva, gli serve un batterista, in questo caso perché parliamo di batteria, che gli risolve il problema, cioè deve starci dietro la batteria, deve saper suonare, deve saper preparare il brano o i brani o il concerto, deve risolvere quel tipo di problema. Questo significa essere un professionista, un musicista professionista. Non significa essere il campione del mondo di rullo a due, non significa essere il campione del mondo di triplo paradiddle o essere il campione del mondo della doppia cassa. Quelle sono delle competenze tecniche che se vuoi sviluppare te come persona le sviluppi, ma non sono quelle le caratteristiche principali per essere una persona che fa il batterista di mestiere, ok? Come qualsiasi altro tipo di strumento. Quindi la cosa importante è tenere a mente che essere un professionista non significa essere il campione del mondo della tecnica dello strumento, ma essere una persona che attraverso le proprie competenze, che possono e devono essere ovviamente anche tecniche, oltre che artistico-musicali, è una persona che deve risolvere il problema, ok? A un artista, un cantante, un pittore, cioè tu hai una competenza specifica e la metti al servizio di una terza persona per risolvere dei problemi. Questo vuol dire essere dei professionisti e per questo motivo riceviamo un cachet e quindi siamo pagati per risolvere questo problema, ok? Ci siamo? Quindi questo è in questo primo video ho voluto mettere l'attenzione su questa cosa perché nei video successivi andiamo a vedere tutto quello che deriva da aver capito con precisione questo primo video, questo primo argomento, cioè cosa significa essere un professionista nell'ambito musicale, ok? Quindi cosa significa professionista? Significa avere delle competenze artistiche, tecniche, anche gestionali, ok? Mettiamola così, che se messe al servizio di una persona che ti commissiona un certo tipo di lavoro, risolvono dei problemi e avvalorano, migliorano, ok? Accrescono quello che è il risultato che questa persona che ti ha chiamato vuole ottenere. Quindi questo è cosa significa più o meno, secondo me, secondo il mio modestissimo parere, essere un professionista in ambito musicale. Nel prossimo video andiamo a vedere come, come diventare un professionista. Ti anticipo da subito che per diventare un professionista il problema non è tecnico, non è fare tanti esercizi alla batteria, quello lo diamo per scontato che per suonare lo strumento devi studiare la tecnica dello strumento e mano a mano migliorare sempre di più. Il problema per diventare un batterista professionista è imparare ad essere professionali. Sembra una cosa banale, ma nel prossimo video entriamo un pochetto più nel profondo e vediamo come fare a diventare più professionali. Per domande, dubbi e cenni storici scrivi pure un commento qui sotto e ci vediamo nel prossimo video. Bella!